Ciao a tutti e benvenuti su Macharix Tutorial. Siamo tornati su Instagram. Oggi andiamo a vedere insieme come si mandano delle foto o dei video che possono essere visualizzati dagli altri profili una sola volta. Innanzitutto andiamo a cliccare in alto a destra sull'icona del messaggio. Selezioniamo la persona a cui vogliamo inviare questa foto. In basso a sinistra c'è la telecamera blu. Ci clicchiamo. Una volta selezionata l'immagine da inviare, clicchiamo qua e facciamo visualizza una volta. Ecco l'abbiamo inviata. Adesso dall'altro account si potrà visualizzare una sola volta. Spero che il video sia stato utile. Mi raccomando commentate, lasciate like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina. Ciao a tutti. Un abbraccio da Macharix.